fino al 1958 59 ero consapevole che scrivendo il traditore non avevo liquidato il mio desiderio di essere niente nulla tutto intero dentro me stesso non oggettivabile non identificabile abbastanza consapevole da notare che questa riflessione su me stesso confermava e prolungava necessariamente la scelta fondamentale dell'inesistenza e non poteva dunque sperare di rimaneggiarla e questo non soltanto perché non mi impegnava ma anche perché io non mi ci impegnavo veramente avevo deciso di scrivere in terza persona per evitare la complicità con la compiacenza verso me stesso la terza persona mi teneva a distanza da me stesso mi permetteva di tracciare in un linguaggio neutro cifrato un tratto quasi clinico della mia maniera di essere e di funzionare questo ritratto era spesso feroce e carico di derisione evitavo la trappola della compiacenza per cadere in un'altra trappola mi compiacevo nella ferocia dell'autocritica ero il puro sguardo invisibile estraneo a ciò che esso vede trasformavo quello che riuscivo a capire di me in conoscenza di me e facendolo non coincidevo mai con quell'io che conoscevo come altro questo saggio non smetteva di affermare vedete io sono superiore a chi sono io ho bisogno di spiegarti tutto ciò perché questo atteggiamento chiarisce molte cose non ho letto che fuggivolmente le bozze di il traditore non ho mai riletto nessuno dei miei testi che erano diventati dei libri detesto l'espressione il mio libro vi vedo la caratteristica di una vanità in cui un soggetto si adorna di qualità che gli altri gli conferiscono in quanto lui stesso è un altro il libro non è più il mio pensiero perché esso è diventato un oggetto in mezzo al mondo che appartiene agli altri e che mi sfugge con il traditore avevo per l'appunto voluto non scrivere un libro non volevo rivelare i risultati di una ricerca ma scrivere questa ricerca mentre si effettuava con le sue scoperte allo stato nascente le sue difficoltà le sue false piste l'elaborazione brancolante di un metodo mai terminato cosciente che quando tutto sarà stato detto tutto resta ancora da dire tutto resterà ancora sempre da dire in altre parole è il dire che importa non il detto ciò che avevo scritto mi interessava molto meno di quello che avrei potuto scrivere in seguito penso che questo sia vero per ogni scrivente scrittore la ricerca si ferma infatti con il secondo capitolo da prima del terzo so fin troppo bene ciò che troverò e concluderò moris blanchol ha notato nel suo lungo articolo la conclusione il capitolo io da solamente una forma coerente sintetica alla diagnosi che si trova già nel primo capitolo essa non offre nessuna scoperta il terzo e quarto capitolo sono colonizzati dai temi riflessioni che annunciano l'opera seguente che li sviluppa il capitolo intitolato tu sovraccarico di digressioni ne ha fatto le spese l'ha scoperto con costernazione dopo l'uscita del traditore nell'edizione folio avevo appena guardato le bozze salvo riportarvi le nove o dieci pagine di tagli che nel capitolo intitolato tu avevo fatto vent'anni prima per l'edizione inglese verso questi tagli vertevano in particolare su una polemica con roman roland e su un'enorme nota a pie pagina che copriva quattro pagine intere a caratteri minuscoli questa digressione su filosofia e rivoluzione si inseriva nella puntualizzazione della mia maniera di ricondurre i conflitti personali a una figura del conflitto di evadere nel reame delle idee dove tutte le cose non sono che illustrazioni contingenti di un'idea generale denunciare questo atteggiamento non mi impediva affatto di perseverarvi in seguito del capitolo ne offre degli esempi quasi caricaturali il capitolo doveva segnare la principale svolta della mia vita doveva dimostrare come il mio amore per te meglio la scoperta con te dell'amore mi avrebbe alla fine portato a voler esistere e come il mio impegno con te sarebbe diventato la molla di una conversione esistenziale il racconto si ferma dunque otto anni prima della redazione del traditore con il giuramento di non lasciarmi mai separare da te il programma allora è compiuto lunga pausa e il capitolo cambia soggetto descrive la centralità del denaro critica il modello del consumismo e il modo di vivere capitalista eccetera tutte cose che saranno l'oggetto dell'opera seguente la seccatura è che in quel capitolo non ve nessuna traccia di conversione esistenziale nessuna traccia della mia della nostra scoperta dell'amore né della nostra storia il mio giuramento resta formale non me ne faccio carico né lo concretizzo al contrario cerco inutilmente di giustificarlo in nome di principi universali come se mi vergognassi ho perfino la lucidità di notare non è evidente che parlavo di Kay come di una debolezza e con un tono di scusa come se bisognasse scusarsi di vivere che cos'è dunque che mi motiva in questo capitolo come d'altronde in tutto il libro perché parlo di te con una specie di disinvolta condiscendenza perché nel poco spazio che ti dedico vieni sfigurata umiliata e perché i frammenti che alludono alla nostra storia si intersecano con quelli di un'altra storia che è quella di una sconfitta e di una rottura deliberata che mi compiaccio di analizzare a lungo mi sono posto queste domande rileggendomi con costernazione ciò che mi motiva a tutta prima è evidentemente il bisogno ossessivo di elevarmi al di sopra di ciò che vivo sento e penso per teorizzarlo intellettualizzarlo essere puro spirito trasparente era già la motivazione di tutto il saggio essa è più immediatamente evidente qui pretendo di parlare di te come della sola donna che abbia mai amato d'amore e della nostra unione come la decisione più importante delle nostre due vite ma evidentemente questa storia non mi avvince né i sette anni che nel momento in cui scrivevo il traditore erano trascorsi da questa decisione essere appassionatamente innamorati per la prima volta essere ricambiati era a quanto pare troppo banale troppo privato troppo comune non era una materia adatta a farmi accedere all'universale un amore naufragato impossibile al contrario diventa della nobile letteratura mi sento a mio agio nell'estetica della sconfitta e dell'annientamento non in quella del successo e dell'affermazione bisogna che mi elevi al di sopra di me e di te a nostre spese a tue spese attraverso considerazioni che superino le nostre singole persone l'oggetto del capitolo è di denunciare questo atteggiamento dimostrare che esso ci ha condotto sull'orlo della separazione della rottura e che per non perderti dovevo scegliere o vivere senza di te secondo i miei principi astratti o liberarmi da questi principi per vivere con te ha preferito Kei ai principi ma controvoglia e senza rendersi conto dei sacrifici molto reali e non di principio che tu accettavi il racconto di ciò che io presento come una conversione è in seguito avvelenato da undici righe che la smentiscono mi descrivo così com'ero in quella primavera del 1948 invivibile dopo essersi messi a vivere insieme in sei metri quadrati lui entrava e usciva senza dire una parola passava le sue giornate sulle sue carte e rispondeva a Kei a monosillabi insofferenti tu ti basti diceva lei è vero che non c'era posto per nessuno in particolare nella sua vita perché in quanto individuo singolo egli non contava e non poteva interessargli che ci si attaccasse a lui in quanto individuo singolo segue una pagina intera di ciò che io stesso qualifico delle dissertazioni spocchiose sull'amore e il matrimonio ho l'aria di giudicare severamente quello che fui ma perché in questa pagina in mezza scritta sette anni dopo nel 1955 o 56 ci sono sei righe che parlano di te come di una ragazza pietosa che non conosceva nessuno non parlava una parola di francese dopo sei mesi in Svizzera eppure sapevo che tu avevi la tua cerchia di amici ti guadagnavi la vita meglio di me eri attesa in Inghilterra da un amico fedele ben intenzionato a sposarti perché quindi quelle righe detestabili che è che in un modo o in un altro si sarebbe distrutta se lui l'avesse lasciata ancora nove pagine più avanti nel mio racconto del giuramento ci sono cinque righe di veleno tu mi avevi dichiarato ed era da prevedere vista la mia disinvoltura che se stiamo insieme solo per un po' tu preferisci andartene adesso e portare il ricordo del nostro amore intatto io accuso il colpo ma dando nuovamente di te un'immagine pietosa si lasciava andare Kay se avesse dovuto ricordarsi per tutta la vita che la El si portava dietro da qualche parte il ricordo di lui cercando rifugio nelle dedizioni ai malati o nei doveri verso una famiglia sarebbe stato un traditore e un vigliacco e poi se non era certo che avrebbe saputo vivere con lei era certo di non volerla perdere ha stretto Kay contro di sé e ha detto con una specie di sollievo se te ne vai io ti seguirò non potrai sopportare di averti lasciata andare e dopo un momento ha aggiunto mai in realtà in quel momento io ho detto ti amo ma questo non figura nel racconto perché quindi ho l'aria così sicura che la nostra separazione sarebbe stata più insopportabile per te che per me per non ammettere il contrario perché dico che ero responsabile della piega che avrebbe preso la tua vita che mi toccava renderti la vita vivibile in tutto in venti pagine undici righe di veleno in tre dosi tre piccoli tocchi che ti umiliavano e ti sfiguravano scritti sette anni dopo e che ci rubano il significato di sette anni della nostra vita chi ha scritto quelle undici righe voglio dire chi ero quando ho scritto quelle righe sento il doloroso bisogno di restituirci quei sette anni e quello che in realtà tu eri per me ho già provato a questo punto a restituirci dei grandi pezzi della storia del nostro amore e della nostra coppia non ho ancora esplorato il periodo durante il quale ho scritto quelle pagine è in esso che devo trovare delle spiegazioni mi ricordo che il 1955 è stato un anno piuttosto felice stavo cambiando giornale abbiamo trascorso le nostre vacanze sulle rive dell'Adriatico ho cominciato il traditore nell'undicesimo arrondissement attanagliato dall'angoscia l'ultimo dell'anno abbiamo firmato il contratto per la rue du bac abbiamo allora vissuto dei mesi di felicità e di speranza ma man mano che andavo avanti il manoscritto si caricava sempre più di considerazioni politiche il capitolo tu colloca ostinatamente i rapporti personali privati e vi compresi i rapporti d'amore e di coppia nel contesto dei rapporti sociali alienanti Gide nota da qualche parte nel suo diario di sentire sempre il bisogno di sostenere nell'opera successiva il contrario di quello che si è appena scritto era anche il mio caso l'esplorazione di me stesso era letteralmente un vicolo cieco non si può riscriverla una seconda volta preparavo già il lavoro successivo ancora non ben definito leggendo il Marx di Jean-Yves Calvé gli scritti giovanili di Marx lo Stalin di Isaac Deutscher credevo che il rapporto Khrushchev del ventesimo congresso annunciasse una svolta che gli intellettuali avrebbero potuto giocare un ruolo decisivo nel movimento comunista cominciavo ad assomigliare ai membri di una compagnia teatrale descritta da Casimir de Brandis nella Defense de Grenade che vogliono che tutti i moti del loro spirito e del loro cuore siano conformi alle esigenze del partito e in cui ciascuno si accusa e accusa gli altri di albergare delle reticenze interiori davanti al proprio compito non ero lontano dal considerare l'amore come un sentimento piccolo borghese parlavo di te con un tono di scusa come di una debolezza questa osservazione nel traditore adesso assume tutto al suo significato evidentemente prendevo per una debolezza almeno in quello che scrivevo l'attaccamento che tu mi mostravi François Herval a quell'epoca una volta mi disse lei ha una fissazione rivoluzionalista tu osservavi con ansia tu osservavi con ansia e a tratti con collera la mia evoluzione pro comunista nello stesso tempo mi facevi amare l'espansione del nostro spazio privato della nostra vita comune una nota di Kafka nel suo diario può riassumere la mia condizione di spirito di allora il mio amore di te non si ama non mi amavo di amarti ho finalmente capito che non avrei potuto impegnarmi dalla parte dei comunisti che per delle cattive ragioni che degli intellettuali non avrebbero potuto ancora per molto tempo dare impulso a una trasformazione del PCF le nuove conoscenze fatte all'inizio del 1957 hanno sicuramente contribuito a farmi evolvere così come alcune nuove letture in particolare David Risman e C. Wright Mills quando il traditore è infine uscito ero ritornato cosciente di ciò che ti dovevo tu ti sei data tutta per aiutarmi a diventare me stesso la dedica che ho scritto nella tua copia dice a te de te che dandomi te mi hai dato io e soltanto l'avessi sviluppato in quello che è diventato il mio libro devo riprendere le distanze per affrontare il seguito della nostra storia durante i nostri anni in Rue du Bac abbiamo progressivamente conosciuto una relativa agiatezza materiale ma non abbiamo mai portato il nostro tenore di vita e di consumo all'altezza del nostro potere d'acquisto c'era tra noi un accordo tacito su questo argomento avevamo gli stessi valori voglio dire una stessa concezione di ciò che dà un senso alla vita o minaccia di toglier per quanto per quanto mi ricordi ho sempre detestato il modo di vivere detto opulento e di suoi sprechi tu rifiutavi di seguire la moda e la giudicavi secondo i criteri che ti erano propri rifiutavi di lasciare che la pubblicità e il marketing ti stillassero dei bisogni che non provavi in vacanza alloggiavamo o dagli abitanti in Spagna o in alberghi e pensioni modesti in Italia solo nel 1968 per la prima volta siamo andati in un grande hotel moderno a pugno chiuso dopo dieci anni abbiamo finito per comprare una vecchia Austin non ci ha impedito di considerare la motorizzazione individuale una scelta politica esecrabile che aizza gli individui gli uni contro gli altri pretendendo di offrir loro il mezzo per sottrarsi al destino comune avevi per le spese correnti un budget che decidevi e gestivi secondo i nostri bisogni questo mi ricorda che fin dall'età di sette anni avevi concluso che per essere vero l'amore deve disprezzare il denaro tu lo disprezzavi spesso ne abbiamo dato abbiamo preso l'abitudine di passare i fine settimana in campagna poi per non dover abitare in una locanda abbiamo comprato una casetta a 50 chilometri da Parigi facevamo con ogni tempo delle passeggiate di due ore avevi una connivenza contagiosa con tutto ciò che è vivo e mi ha insegnato a guardare e ad amare i campi i boschi e gli animali ti ascoltavo così attentamente quando gli parlavi che avevo l'impressione che capissero le tue parole tu mi svelavi la ricchezza della vita e io l'amavo attraverso di te a meno che non fosse l'inverso ma fa lo stesso poco dopo esserci sistemati nella casetta hai adottato un gatto grigio tigrato che visibilmente affamato aspettava sempre davanti alla nostra porta l'abbiamo guarito dalla rogna la prima volta che mi hai saltato spontaneamente sulle ginocchia ho avuto la sensazione che mi facesse un grande onore la nostra etica se così posso chiamarla ci preparava ad accogliere con gioia il maggio 68 e ciò che ne è seguito noi abbiamo preferito da subito WLR alla GP Tieno Grumbach e la sua comunità militante di Mante a Benile V e a la causa del popolo cinque anni prima a New York avevamo detestato la civiltà americana con i suoi sprechi il suo smog le sue patatine con ketchup e coca cola la brutalità e i ritmi infernali della sua vita urbana non supponevamo che presto niente di tutto ciò avrebbe risparmiato Parigi a Cambridge siamo stati seduti dall'ospitalità e dall'interesse che i nostri ospiti nutrivano per le nostre idee abbiamo scoperto una specie di controsocietà che scavava le sue gallerie sotto la crosta della società parente aspettando di poter emergere in pieno giorno non abbiamo mai visto tanti esistenzialisti cioè gente decisa a cambiare la vita senza aspettarsi niente dal potere politico tentando di vivere insieme in un altro modo di mettere in pratica i loro scopi alternativi siamo stati invitati a un think tank a Washington tu sei stata invitata a parecchie riunioni di Brad and Roses e hai ottenuto che io potessi assistervi rientrando a Parigi hai portato parecchi libri avevamo un mondo in comune di cui coglievamo aspetti differenti eravamo ricchi di queste differenze il soggiorno negli Stati Uniti ha contribuito a far evolvere i nostri centri di interesse mi ha aiutato a capire che le forme e gli obiettivi classici della lotta di classe non possono cambiare la società che la lotta sindacale doveva spostarsi su nuovi terreni l'estate seguente abbiamo accolto con il più vivo interesse il testo preparatorio per un seminario a Quernavaca al quale dovevano partecipare una ventina di persone non so come Jean Daniel abbia ottenuto quel testo mi ha domandato di riassumerlo per il giornale il suo titolo provvisorio era Retooling Society cominciava affermando che l'inseguimento della crescita economica avrebbe provocato delle catastrofi multiple che avrebbero minacciato in otto modi la vita umana vi si trovava come un eco del pensiero di Jacques Eul e di Ginter Anders l'espansione dell'industria trasforma la società in una gigantesca macchina che al posto di liberare gli umani restringe il loro spazio di autonomia e determina quali fini essi devono perseguire e come noi diventiamo i servitori di questa mega macchina la produzione non è più al nostro servizio siamo noi al servizio della produzione e in ragione della professionalizzazione simultanea dei servizi di ogni genere diventiamo incapaci di occuparci di noi di autodeterminare i nostri bisogni e di soddisfarli noi stessi dipendiamo in tutto da professioni inibitrici abbiamo discusso di questo testo durante le nostre vacanze era firmato da Ivan Illich poneva in una prospettiva nuova l'idea di autogestione che era in voga in tutta la sinistra avvalorava l'urgenza della tecnocritica il rimaneggiamento delle tecniche di produzione di cui avevamo incontrato un protagonista ad Howard legittimava il bisogno di allargare il nostro spazio di autonomia di non pensarlo come un bisogno soltanto privato probabilmente ha giocato un ruolo nel nostro progetto di costruire una vera casa tu ne hai disegnato la pianta durante quelle vacanze estive una casa a U così siamo entrati insieme nell'era di quella che sarebbe diventata l'ecologia politica essa ci appariva come un prolungamento delle idee e dei movimenti del 1968 abbiamo frequentato la gente della Guell Huvert e del Sauvage Michel Roland e Bernard Laponsche alla ricerca di un altro orientamento della tecnoscienza della politica energetica e dello stile di vita abbiamo incontrato Illich per la prima volta nel 1973 voleva invitarsi a un seminario sulla medicina previsto per l'anno seguente non immaginavamo che la critica alla tecnomedicina avrebbe presto conciso con le nostre preoccupazioni personali nel 1973 tu lavoravi alle edizioni Galilee per mettere in piedi un ufficio per i diritti con l'estero l'avresti diretto per tre anni di fine settimana facevamo dei picnic sul cantiere della nostra futura casa tutto ci univa ma la tua vita era rovinata da alcune contratture e da mal di testa inspiegabili il tuo fisioterapista sospettava che fossi ipernervosa il medico dopo degli inutili esami ti ha prescritto dei tranquillanti i tranquillanti ti hanno depresso al punto che con tuo stesso stupore ti capitava di piangere da allora non ne hai mai più presi l'estate seguente siamo andati a Kernavaca lì ho studiato la documentazione che Illich aveva messo insieme in vista della sua nemesi medica eravamo d'accordo che avrei fatto degli articoli all'uscita di quel libro il primo articolo era intitolato quando la medicina rende malati la maggioranza della gente oggi penserebbe che esso enunciava delle evidenze all'epoca soltanto tre lettere di medici non l'hanno attaccato una di essa era firmata a Courpayenne sottolineava la differenza tra sindrome e malattia e difendeva una concezione olistica della salute sono andato a trovare questo medico quando il tuo stato di salute si è drammaticamente aggravato non potevi più distenderti tanto la testa ti faceva soffrire passavi la notte in piedi sul balcone o seduta in poltrone avevo voluto credere che avevamo tutto in comune ma tu eri da sola nel tuo sconforto sulla radiografia di tutto il rachide testa compresa che ti ha fatto fare il dottor Courpayenne ha constatato la presenza di palline e di prodotti di contrasto disseminati nel canale rachideo dalle lombari fino alla testa questo prodotto il lipiodol ti era stato iniettato otto anni prima alla vigilia di un'operazione di un'ernia del disco paralizzante ho sentito il radiologo che ti rassicurava eliminerà questo prodotto in dieci giorni dopo otto anni una parte del liquido era salita nelle fosse craniche e un'altra parte si era incistata a livello delle cervicali è a me che Courpayenne ha comunicato la sua diagnosi avevi un'arachnoidite non esisteva nessun trattamento per questa affezione evolutiva mi sono procurato una trentina d'articoli sulle mielografie pubblicati in alcune riviste mediche ho scritto agli autori di alcuni di questi articoli uno di loro un norvegese Scalp che aveva fatto delle autopsie su degli esseri umani e su degli animali di laboratorio aveva dimostrato che il lipiodol non viene mai eliminato e che provoca delle patologie che vanno aggravandosi la sua lettera terminava con queste parole ringrazio Dio di non aver mai utilizzato questo prodotto la lettera di un professore di neurologia del Baylor College of Medicine Texas non era più incoraggiante l'arachnoidite è un'affezione nella quale i filamenti che coprono il cordone midollare propriamente detto e a volte il cervello formano del tessuto cicatriziale e comprimono tanto il cordone midollare quanto le radici nervose che ne escono e vi entrano diverse forme di paralisi o di dolori possono seguirne l'inibizione di certi nervi o una cura medicamentosa forse potrebbero aiutare non ti aspettavi più niente dalla medicina rifiutavi di abituarti all'assunzione di antalgici e di dipenderne hai deciso di prendere tu stessa in mano il tuo corpo la tua malattia la tua salute di prendere potere sulla tua vita invece di permettere alla tecnoscienza medica di prendere potere sul tuo rapporto con il tuo corpo con te stessa hai preso contatto con una rete internazionale di malati che si aiutano tra loro scambiandosi informazioni e consigli dopo essersi scontrati come te con l'ignoranza e talvolta con la cattiva volontà del corpo medico ti sei accostata allo yoga prendevi possesso di te gestendo i tuoi dolori con antiche autodiscipline la capacità di capire il tuo male di prenderti carico di te stessa ti sembrava il solo mezzo per non essere dominata da esso e dagli specialisti che ti avrebbero trasformata in una consumatrice passiva di terapie la tua malattia si portava sul terreno dell'ecologia e della tecnocritica i miei pensieri non ti abbandonavano quando ho preparato per il giornale un dossier sulle medicine alternative la tecnomedicina mi sembrava come una forma particolarmente aggressiva di quello che Foucault avrebbe più tardi chiamato il bio potere il potere che i dispositivi tecnici prendono perfino sul rapporto intimo che ciascuno ha con se stesso due anni dopo siamo stati invitati una seconda volta a Chernavaca dopo dovevamo andare a Berkeley poi alla Iolla vicino a San Diego da Marcuse ho fatto a tua insaputa una tua foto di schiena cammini con i piedi nell'acqua sulla grande spiaggia di la Iolla hai 52 anni sei meravigliosa è una delle immagini di te che preferisco ho guardato a lungo questa foto al nostro ritorno quando mi hai detto che ti domandavi se non avessi un cancro te lo domandavi già prima della nostra partenza per gli Stati Uniti ma non avevi voluto dirmelo perché se devo morire volevo prima vedere la California mi hai detto tranquillamente il tuo cancro dell'endometrio non era stato rilevato al momento delle analisi annuali fatta la diagnosi fissata la data dell'operazione siamo andati per otto giorni nella casa che tu avevi concepita ho scritto il tuo nome nella pietra con un gulino questa casa era magica tutti gli spazi avevano una forma trapezoidale le finestre della camera da letto davano sulla cima degli alberi la prima notte non dormimmo ciascuno ascoltava il respiro dell'altro poi uno signolo si è messo a cantare e un altro più lontano a rispondergli ci siamo parlati pochissimo passavo le giornate a zappare e di tanto in tanto alzavo gli occhi verso la finestra della camera da letto tu mi stavi in piedi immobile lo sguardo fisso in lontananza sono sicuro che lavoravi ad assuefarti alla morte per combatterla senza timore eri così bella e risoluta che non potevo immaginare che potessi rinunciare a vivere mi sono messo in ferie dal giornale e ho diviso con te la stanza in clinica la prima notte dalla finestra aperta ho sentito tutta la nona sinfonia di Schubert essa si è impressa dentro di me mi ricordo di ogni momento passato in clinica pierre l'amico medico del cnrs che veniva a prendere le tue notizie ogni mattina mi ha detto stai vivendo dei momenti di un'eccezionale intensità te ne ricorderai per sempre ho voluto sapere quante possibilità di sopravvivenza a cinque anni ti dava l'oncologo pierre mi ha riferito la risposta fifty fifty mi sono detto che alla fine dovevamo vivere il nostro presente invece di proiettarci sempre nell'avvenire ho letto due libri di Ursula Le Guin portati dagli Stati Uniti mi hanno rinforzato in questa decisione alla tua uscita dalla clinica siamo ritornati nella nostra casa il tuo brio mi incantava e mi rassicurava eri sfuggita alla morte e la vita prendeva un senso nuovo e un nuovo valore Illich l'ha immediatamente capito quando l'hai rivisto alcuni mesi dopo durante una serata lui ti ha guardato a lungo negli occhi e ti ha detto lei ha visto l'altro lato non so che cosa gli hai risposto né ciò che vi siete detti d'altro ma subito dopo lui mi ha detto queste parole che sguardo capisco adesso quello che lei rappresenta per te ci ha invitato un'altra volta a Kernavaca aggiungendo che avremmo potuto restarci tutto il tempo che avremmo voluto tu avevi visto l'altro lato eri ritornata dal paese da dove non si ritorna questo aveva cambiato la tua ottica avevamo preso la stessa decisione senza consultarci un inglese romantico la riassunta in una frase there is not wealth but life durante i tuoi mesi di convalescenza ho deciso di andare in pensione a 60 anni mi sono messo a contare le settimane che me ne separavano mi divertivo a cucinare a cercare i prodotti biologici che ti avrebbero aiutata a riprendere le forze a ordinare a plasfagram le preparazioni magistrali che ti raccomandava un omeopata l'ecologia diventava uno stile di vita e una pratica quotidiana senza smettere di presupporre l'esigenza di un'altra civiltà ero arrivato all'età in cui ci si domanda cosa si è fatto della propria vita cosa se ne sarebbe voluto fare avevo l'impressione di non aver vissuto la mia vita di averla sempre osservata a distanza di non aver sviluppato che un solo lato di me stesso e di essere povero in quanto persona tu eri sempre stata più ricca di me ti sei schiusa in tutte le tue dimensioni eri a tuo agio nella vita mentre io avevo sempre avuto fretta di passare al compito seguente come se la nostra vita non sarebbe cominciata veramente che più tardi mi sono domandato qual era l'inessenziale a cui avrei dovuto rinunciare per concentrarmi sull'essenziale mi sono detto che per capire la portata degli sconvolgimenti che si annunciavano in tutti i campi ci voleva più spazio e tempo di riflessione di quanto ne permetteva l'esercizio a tempo pieno del mestiere di giornalista non mi aspettavo niente di veramente innovatore dalla vittoria della sinistra nel 1981 e te l'ho detto dopo aver incontrato due ministri del governo Mouroua all'indomani della loro nomina mi ero stupito che la mia partenza dal giornale dopo vent'anni di collaborazione non fosse dolorosa né per me né per gli altri mi ricordo di aver scritto a E che in fin dei conti una sola cosa era essenziale per me stare con te non posso immaginarmi continuare a scrivere se tu non ci sei più tu sei l'essenziale senza il quale tutto il resto per quanto importante mi sembri finché ci sei tu perde il suo significato e la sua importanza te l'ho detto nella dedica del mio ultimo scritto ventitre anni sono trascorsi da quando siamo andati a vivere in campagna prima nella tua casa che sprigionava un'armonia meditativa non ce la siamo goduta che tre anni il cantiere di una centrale nucleare ci ha cacciato via abbiamo trovato un'altra casa molto antica fresca in estate calda in inverno con un grande terreno avresti potuto esservi felice là dove non c'era che un prato hai creato un giardino di sepi e di arbusti vi ho piantato duecento alberi per alcuni anni abbiamo viaggiato ancora un po' ma le vibrazioni e le scosse dei mezzi di trasporto quali che fossero ti scatenavano dei mal di testa e dei dolori in tutto il corpo la racnoidite ti ha costretta ad abbandonare a poco a poco la maggior parte delle tue attività preferite riesci a nascondere le tue sofferenze i nostri amici ti trovano in piena forma non hai smesso di incoraggiarmi a scrivere nel corso dei 23 anni passati nella nostra casa ho pubblicato sei libri e centinaia di articoli e interviste abbiamo ricevuto decine di visitatori venuti da tutti i continenti e ho concesso decine di interviste sicuramente non sono stato all'altezza della decisione presa trent'anni fa di vivere a mio agio nel presente attento prima di tutto alla ricchezza che è la nostra vita in comune rivivo adesso gli istanti in cui ho preso questa decisione con una sensazione di urgenza non ho opere più importanti in corso non voglio più secondo la formula di George Bataille rimandare l'esistenza a dopo sono attento alla tua presenza come al tempo dei nostri inizi e mi piacerebbe fartelo sentire tu mi hai dato tutta la tua vita e tutto di te mi piacerebbe poterti dare tutto di me per il tempo che ci resta hai appena compiuto tante due anni sei sempre bella elegante e desiderabile sono 58 anni che viviamo insieme e ti amo più che mai recentemente mi sono innamorato di te un'altra volta e porto di nuovo in me un vuoto divorante che solo il tuo corpo stretto contro il mio riempie la notte vedo talvolta la figura di un uomo che su una strada vuota in un paesaggio deserto cammina dietro un carro funebre quest'uomo sono io sei tu che il carro funebre trasporta non voglio assistere alla tua cremazione non voglio ricevere un vaso con le tue ceneri sento la voce di Ketlin Ferrier che canta di Weltisleer ich will nicht leben mehr e mi sveglio spio il tuo respiro la mia mano ti sfiora ciascuno di noi vorrebbe non dover sopravvivere alla morte dell'altro ci siamo spesso detti che se per assurdo avessimo una seconda vita vorremmo trascorrerla insieme a man Grazie a tutti